Bella ragazzi, carichi come... ah no, quella è la intro di Fuse Gamer Ho sbagliato Comunque, bella ragazzi, bentornati sul mio canale Siamo qui oggi, tornati con questo nuovo video Oggi reaction dall'Allianz Stadium Juventus-Brescia Che dire, raga, abbiamo visto la Juve in queste ultime due partite Un po' così così, specialmente col Verona Andata malissimo Con... col Milan, diciamo ci siamo salvati Speriamo al ritorno, ovviamente ci sarà anche allo stadio Quindi speriamo al ritorno di fare bella figura Di giocare bene come la Juve Sa giocare, perché la Juve sa giocare bene, raga E speriamo che il gioco di Sarri si sappia esprimere Oggi sono qui allo stadio, appunto, per sperare Nel vedere il gioco di Sarri Dai, speriamo, raga Comunque, andiamo Oggi curva nord E daglie Eccomi qua, ragazzi, sono arrivato davanti al gate F Tra poco entriamo Dai, dai, dai Ah, ragazzi, sempre un'emozione entrare dentro lo stadio Che figata Dai, ragazzi Vai, vai, quadrato Dai, dai, ragazzi Vai, gioia Vai, gioia Andiamo in Balondelli Andiamo Super Mario E' una sbagliata Speriamo così anche in partita Ecco il Brescia, ragazzi Dobbiamo sentire i fischi poi per Balondelli Eccoli i fischi Eccoli Eccoli Di Bara E Paolo Numero 12 La gioia Alex Sandro Numero 13 Da Silva Sanilo Numero 16 Quante Quante Quattro Numero 19 Leonardo Numero 21 Gonzalo Viva Numero 24 Da Ieri Da Ruggani Numero 25 Vediamo cosa sarà Fabio Lugani Da Ruggani Da Ruggani Da Ruggani A disposizione Il numero 77 Con il cuore Vaglia numero 13 Giovanni Giacchini Eeeh Da Ruggani 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 teneri Da Ruggani Da Ruggani A Ruggani Grazie Da Ruggani Dai, 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 gioia, la Juve qua sotto di noi, raga, dai, dai, ragazzi, quante volte l'ho detto tu, dai, vabbè, mettile in mezzo, vai, vai, che cazzo. Nooo, ma che cosa? Bravo, Cesni. L'espulso a ieri, ragazzi, cambia la partita e non ho capito se è calcio di rigore o è dal limite la punizione. Vai, Paolo, metti la dentro. Sì, Paolo, sì, vai, Paolo. Paolo, chitala, 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 sì, vamo. Bella, bella, vai, Guaimia. Bello, bello, che parata ha fatto quello. E finisce qua il primo tempo, 1-0 Juve. Stanno ritrendo le squadre, ma ragazzi, dobbiamo continuare così, eh. Non dico niente, però, anche perché abbiamo fatto più calcio tango e lì che tiri in porta, però 1-0 primo tempo. Vai, Guaimia. Nooo, mannaggia. Vai, Paolo. Vai, Paolo. Nooo. Argalà. Bello. Sì. Bravo, quadrato. Sì. Andiamo. Quadrato. 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 Oh. 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 Andiamo. Chiun. Andiamo. Chiun. 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 Oh, fuori gioco. Provala la pupita, provala. Bravo Cesno. Provala. No, ma che traversa, che sfiga. Che sfiga, ragazzi. E finisce qua. 2-0, ragazzi. Finalmente abbiamo visto una bella Juve, però... Troppa confusione nel primo tempo. Ma vabbè, siamo ripresi e si vince 2-0. Dai, ragazzi, adesso pensiamo alla prossima. Ciao.